Dopo un turno di stop forzato, Bellante e Campodipetra tornano in campo per uno scontro d'alta quota. La squadra di casa vuole ottenere il quinto successo consecutivo per agganciare le prime della graduatoria. Stessa classifica ma discorso inverso per le ragazze ospiti, desiderose di tornare alla vittoria dopo aver messo in cascina un solo punto in due gare. Il match parte forte, al nono Croci si coordina al volo, sfruttando un cross di Deremigis, ma non riesce ad angolare e Caserio blocca. Passano tre minuti e il Bellante passa in vantaggio. Punizione di Bianconi dalla destra, Rocci tocca sotto porta e beffa Caserio per l'1-0. La gioia locale però dura solo due minuti. Corner di D'Angelo battuta al centro dell'area per la corrente Ciocca, che da pochi passi non sbaglia. Il Bellante accusa il colpo e il Campodipetra ne approfitta. La formazione molisana ci prova con una punizione di Cristofano, che induce Antonelli alla respinta con i pugni. Sul corner successivo battuta da D'Angelo, il fuoco amico fa capitolare le terramane e partita ribaltata in quattro minuti. La squadra di casa torna a spingere. Mischia in area, Rocci si divora il gol del pari e della doppietta. L'estremo ospite è prodigioso alla mezz'ora, quando Enrico Tomassetti innesca la velocità di Bianconi. Lo scavetto però trova l'opposizione di Caserio. Sul finire del primo tempo, un'occasione per parte. Il tentativo dal limite di Cristofano non si abbassa a sufficienza. Dall'altra parte stesso destino trova il calcio di punizione di Giovagnoni. Con le riprese di mano il centurame, passiamo alla ripresa, che si apre con un errore difensivo nell'area ospite. Bianconi a botta sicura calcio centrale. Spinge il bellante alla ricerca del pari. Angolo di Angelini. Il pallone sbuca nella zona di Giovagnoni. Caserio blocca senza problemi. Alla mezz'ora arriva il pari. Rocci serve Bianconi, che con un pallonetto preciso sotto la traversa fa cadere il quasi perfetto muro molisano e ristabilisce la parità. Al quarantunesimo la signora Chiara Di Fabio ravvisa un'irregolarità ai danni di Angelini lanciata in porta e indica il dischetto. Di Lodovico è fredda e batte Caserio, che intuisce ma non può nulla. Nel finale c'è tempo per l'espulsione di Panichella, per qualche parola di troppo. Quinta vittoria consecutiva per il bellante, che continua la corsa verso le posizioni che contano. Continua invece la crisi del campo di pietra. Strameritata secondo me, il che se ne dica. Siamo andati in svantaggio per un errore e una svista, però insomma la partita l'avete vista tutti. Abbiamo, secondo me, dominato. Abbiamo fatto 4-5 azioni limpide da gol. Le ragazze sono state bravissime a reagire e voglio fare veramente i complimenti a tutti. Bravi. Inizio della seconda fase, questa è la quinta vittoria consecutiva. Siamo molto soddisfatte. Il giorno è andata, abbiamo avuto un po' di problemini, come abbiamo detto l'altra volta all'Aquila, tra gli infortuni, Covid. Ora per fortuna ci abbiamo tutti, abbiamo recuperato. I risultati si vedono, insomma. Siamo veramente contenti. Complimenti di noi alle ragazze, hanno fatto un'ottima gara. Sì, la partita, vabbè, presi pure dal campo, che diciamo non siamo abituati a giocare su questi campi, però purtroppo non è una scusante. Purtroppo io quella che ho da ramaticarmi è che noi la partita l'abbiamo fatta dal primo all'ultimo minuto, però poi non voglio parlare degli arbitri perché se no sarebbe troppo, sarei sicuramente offensivo. Quindi il campo ha dato questo risultato e accettiamo questa sconfitta pure con mal cuore. E quindi andiamo avanti. Noi mercoledì abbiamo un recupero col Pucetto e adesso già pensiamo a mercoledì.